Ops a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Oggi sono qui solo per voi, per fare un video super 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 speciale, insieme a Giannard ASMR. Ciao a tutti, sono Giannard ASMR. Abbiamo deciso di fare una collaborazione insieme, quindi se non seguite Giannard andate subito a seguirlo. Io vi lascerò qua sotto in descrizione il suo canale, va bene? Che idea abbiamo avuto? Abbiamo deciso di vestirci di un colore per ogni trigger e di fare appunto questi trigger. In un video ci saranno un totale di 6 trigger, 3 fatti da me e 3 fatti da Giannard. E la stessa cosa sul suo canale, quindi appunto ci saranno 12 colori diversi. Quindi senza dire altro, mi raccomando, indossa un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Cominciamo con il primo trigger. 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 a presto un po' di sottotitoli un po' di più grazie a tutti 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 grazie a tutti